Ciao Roberto Casalino, ti dedico questo video perché non sono venuto al tuo concerto del Pride Village e ci tenevo a farti questo video come dedica perché sei un grande artista e vorrei tanto vedere un tuo concerto da vivo. Spero che la prossima volta che vieni in Veneto ti riusci a vederti e a sentire perché sono due anni che dobbiamo vederti e per una cosa e per l'altra non ci riusciamo mai. Pertanto ti invito a seguirmi nel mio YouTube che sicuramente troverai come Samuele coniolato e con la speranza insomma di potersi rivedere e di poter ascoltare le tue canzoni che hai scritto cantate da te. Ma auspico che tu possa ritornare presto in Veneto magari più spesso invece che una volta all'anno come ti fanno venire perché veramente ritengo che tu sia un'artista che lo merita. E così insomma speriamo di vederti in un futuro non troppo lontano. e abbraccio te e tutti i tuoi fan al quali dedico questo video. Ehm... Una rivedersi a presto o sempre qua dal Veneto insomma. Ciao Roberto a risentirci su Facebook. Ok? Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.